non posso non ringraziare anch'io il circolo dei lettori la direttrice che voglio ricordare non solo come direttrice di questo circolo ma come scrittrice traduttrice e come editorialista dalla stampa un ringraziamento a tutta quella gioiosa macchina da guerra che costituisce la squadra di lavoro di questo circolo e veramente alte competenze professionali nei diversi ambiti di intervento bene grazie a tutti quanti gli enti pubblici e privati che rendono possibile lo svolgimento di questo festival e grazie al lucio caracciolo un saluto un ringraziamento a lui e che l'ospite d'onore di questo questa sesta edizione un saluto un ringraziamento ancora giuria pompili e ancora al nostro conduttore del prossimo incontro luca mascolin non vorrei dimenticare luciano canfora ma lui è il presidente del festival non solo ma è l'anima e l'ispiratore di questo festival a voi benvenuti al festival del classico il tema è un tema veramente impegnativo quest'anno oriente occidente la distinzione tra queste due categorie spesso metaforica e ancora molto potente risale al mondo antico si tratta di termini occidentali ma fu probabilmente un popolo dell'est sia pure del vicino oriente gli assiri a introdurlo per primo nel secondo millennio a.C. con la distinzione tra ereb o irib terra del sole che scompare dall'orizzonte e asia asu terra del sole che nasce ma se gli assiri non avevano dato a questa distinzione nessun significato particolare né al confine geografico nessun significato di frontiera tra popoli diversi con diverse visioni del mondo furono i greci un popolo dell'ovest e lo storico erodoto a chiedersi per primi che cosa divideva l'europa la terra dove le esperidi vivevano sulle sponde dell'oceano custodendo i meli dai frutti dorati e i popoli selvaggi e servili dell'est visceralmente nemici in battaglia rivali in uno scontro di civiltà che attraverserà i secoli dalla guerra di troia sul bosforo confine simbolico tra i due mondi al conflitto con i persiani allo scontro con i parti con i sassani di con gli arabi con i turchi ottomani la guerra è stata lo strumento per manifestare e risolvere sempre solo temporaneamente questa perpetua inemicizia questo bipolare scontro di civiltà se vogliamo usare le categorie di huntington nei nostri giorni lo scontro è stato enfatizzato dai greci fin dalla prima rappresentazione di esso senza considerare la guerra di troia nella tragedia i persiani di eschilo di cui sentiremo stralci nel reading di giornaro carillo e dell'attrice elena bucci un'auto rappresentazione cristallizzata dell'identità europea attraverso il contrasto tra un mondo guidato dal nus e dalla metis che si compiacerà della propria superiorità intellettuale politica e un mondo altro definito con le categorie della moltitudine dell'informe del caos indistinto dell'oclos dominato dal un thuramnos colpevole di hubris di traccotanza oltraggiosa l'altro è il barbaros forma onomatopeica che mima la balbuzie privo di parola sensata semplicemente schiavo ma in realtà ignorato nella sua complessità da chi con una presunzione di superiorità pretende di non avere alcun debito culturale e coltiva il mito della autoctonia ma non tutta la cultura greca ignora l'umanità dell'altro in particolare delle donne a cui attribuisce un ethos diverso ma restituisce dignità e lo vedremo nell'alexio sulle supplici di eschilo di olimpia imperio lo vedremo nel reading di sonia bergamasco curato da eva cantarella e da margherita rubino non tutta la cultura greca dicevo nega il debito con l'altro il paradigma contrapositivo e espressione di una visione monocentrica che produce un asse portante privilegiato dando per scontata una supremazia dell'occidente e legge la storia in una direzione irrimediabilmente conflittuale con esiti alterni per la per la riconferma dell'egemonia in diversi momenti topici le guerre persiane fino al trionfo di alessandro magno lo scontro tra mondo cristiano a islam nelle crociate con esiti alterni dalla conquista turca di costantinopoli alla battaglia di lepanto dalla battaglia di vienna la battaglia per esattezza di kalemberg nel 1683 alla fine dell'impero turco del 1918 ma in tale approccio c'è una certa arroganza che trascura millenni di egemonia orientale coltivata senza ambizioni di dominio militare un mondo che resterà lontano e si aprirà lentamente allo sguardo dell'occidente soprattutto attraverso le vie del commercio di un prodotto raffinatissimo e prezioso come la seta un mondo così vasto e così eterogeneo fatto di popoli molto diversi tra loro un mondo di civiltà tecnologicamente avanzate come quella degli sciiti abili orafi come quella dei persiani ben diversa dalla rappresentazione distorta anche se affascinante delle fonti greche a cui restituiranno verità nei nostri incontri le fonti achemenide rivelate dallo storico e filologo dell'università di cardiff lloyd levelling jones che avremo il privilegio di sentire via streaming un mondo dalle ricchezze stupefacenti che meraviglierà i lettori del milione di marco polo ma anche abitato da popoli delle steppe nomadi razziatori destinati a sconvolgere l'immaginario occidentale e a rafforzarne i pregiudizi anche il mondo greco però non è un'unità monolitica ha in sé molte aporie molte contraddizioni che lo rendono un universo stimolante la stessa filosofia spesso è celebrata come miracolo greco attinge alle fonti orientali della saggezza quando accenna agli egizi o al mito di diotima e in questo quadro sfaccettato e multipolare la storia non appare diretta linearmente in un'unica direzione ma sembra ruotare intorno al medesimo asse e per la prima volta nel 1949 carly aspers parlerà di una età assiale un arco di tempo che va dall'ottocento al 200 avanti cristo in cui sono sorte contemporaneamente diverse tradizioni religiose filosofiche in cina con confucio in india con buddha in iran con zaratustra nel contesto ebraico con geremia isaia ed elia per non parlare dei filosofi nella cultura greca classica da qualche decennio la discussione si incentra ecco si incentra sugli aspetti più rilevanti che caratterizzano questa età assiale e sul tema discuteranno i filosofi mauro bonazzi franco ferrari e giuseppe cambiano ripercorrendo la filosofia occidentale dai presocratici alla sua espressione più alta il sistema hegeliano che eternizza il pregiudizio occidentale affermando che ogni campo dell'essere ogni campo del sapere muove da oriente a occidente in un percorso di razionalizzazione che considera l'oriente l'origine ma anche il grado più basso dell'autocoscienza l'oriente dove la libertà è solo di uno lo stesso pregiudizio sul dispotismo orientale già espresso da monteschi per cui sono parole sue pare che la libertà sia fatta per il genio dei popoli d'europa e la schiavitù per i popoli dell'asia ma altri hanno trovato invece la saggezza in oriente attingendo la filosofia indiana in particolare al buddismo la cui diffusione anche testimoniata dai reperti archeologici degli editti del re ascioca diventato pacifista dopo le guerre cruente editti scritti in pracrito aramaico e greco ne parlerà federico squarcini e altri scopriranno il taoismo cinese e gli insegnamenti del maestro sun zi ne parleranno a tirio andreini e maurizio scarpari il levante la facciata mediterranea dell'oriente appare invece come il luogo in cui si originano e in cui si intrecciano le testimonianze di civiltà antichissime ricordate anche nella storia biblica una storia che vede il popolo eletto sottoposto alla schiavitù e deportato sotto il regno di Nabucodonosor ma anche protetto dai grandi imperatori persiani come Ciro il grande che pose fine alla cattività babilonese queste pianure fluviali che comprendono anche l'Egitto del Nilo sono teatro dalla cosiddetta traslazio imperii che culmina nell'impero persiano e di cui parleranno il già citato Lloyd Levelling Jones in videocollegamento e Stefano Pellò dell'università Ca' Foscari di Venezia un alternarsi dell'idea imperiale che si avvicenda dagli assiri ai babilonesi ai persiani fino a raggiungere l'apice con Alessandro il Macedone artefice di un ambizioso progetto universalistico proiettato dalla Macedonia all'Egitto all'Oriente più estremo fino alle foci dell'Indo e che avrebbe potuto imprimere una direzione diversa anche alla storia romana e dell'Occidente cosa però che Tito Livio metteva in forze dubitando che avrebbe potuto infrangere il primato incontrastato di Roma. Dell'impero di Alessandro parleranno Manuela Mari e Omar Coloru un sogno che ha favorito la diffusione nel territorio africano della civiltà greca testimoniata da quella grande operazione culturale che è stata la cultura ellenistica promossa dai suoi diadochi come i tolomei di cui la biblioteca e il museo di Alessandria furono l'emblema. Di questa saggezza straniera e dei rapporti tra la cultura greca e le altre culture parleranno Luciano Canfora, Luciano Bossina e Lucio Troiani a partire da lezioni tenute nel 1973 all'Università di Cambridge dallo storico Arnaldo Momigliano, ripubblicate da Einaudi nel 2019. Una realtà quella della presenza greca nel mondo egiziano che ha alimentato ipotesi discusse come quella di una Atena nera e di origini afro-asiatiche della regina più famosa Cleopatra, ultima rappresentante in Egitto dei tolomei e protagonista di quella guerra mondiale dei Romani che analizzerà con sguardo critico l'Alexio di Giusto Traina, della cultura ebraica grecizzante ad Alessandria durante il dominio romano. Seguito alla vittoria di Ottaviano contro Cleopatra parlerà invece Luciano Bossina proponendo uno scritto di Filone di Alessandria, testimonianza davvero molto toccante dell'acutizzarsi del conflitto tra culture prima dialoganti con il triste esito del primo pogrom della storia nel 38 d.C. Di quel coacervo di conflitti tra greci, giudei, romani, cristiani e della intolleranza brutale da cui scaturì nel V secolo d.C. l'assassinio di Ipassia nella stessa Alessandria parlerà Silvia Ronchei, ricostruendo la vera storia di questa filosofa astronoma matematica, spesso trasformata in un simbolo di battaglie ideologiche e non sempre riconosciuta nella sua realtà di vittima dell'invidia e del fanatismo. Atene e Gerusalemme sono i due poli dialettici variamente intrecciati di questo mondo, proiettato tra Oriente e Occidente. Pensiamo ai Remagi che seguono l'annuncio della buona novella e intraprendono il cammino verso Betlemme, ne parlerà Maonesio Bettini. Pensiamo alla missione di San Paolo e al suo discorso all'Areopago, alla traduzione in greco dei Vangeli da parte del 70. Pensiamo alla diffusione universale del cristianesimo, pur con tutte le scissioni eretiche che hanno alimentato divisioni tra Oriente e Occidente. Di queste due città simbolo e di ciò che le accomuna o non le accomuna, a partire dalla domanda formulata in modo provocatorie e polemico da Tertulliano, parleranno Ivano Ionigi e il cardinale Gianfranco Ravasi. Sul mito del nodo gordiano, nodo inestricabile che teneva legato al timone il carro dedicato a Zeus e che secondo la leggenda avrebbe assicurato l'impero dell'Asia a chi l'avesse sciolto e sulla capacità risolutiva ma effimera di Alessandro che lo spezzò con un colpo di spada, sono state alimentate varie riflessioni filosofiche. Roberto Esposito riprenderà il dibattito sul nodo di Gordio, filo conduttore della storia tra Ernst Jünger e Carl Schmitt, commentando la recente ripubblicazione di Adelphi e per Jünger il nodo Oriente-Occidente è una polarità elementare archetipica, simbolica, che contrassegna in modo costante l'umanità intera nella sua sostanza e ogni singolo uomo nella sua anima e l'opposizione tra mitos ed ethos, potere tellurico e luce, dispotismo e libertà, arbitrio e diritto. Una visione che non poteva trovare perfettamente concorde l'amico Carl Schmitt che sostituisce a quella l'opposizione tra terra e mare. Nel mezzo l'Europa e i due ritroveranno un'intesa nel prefigurarla quale centro di gravità capace di favorire come terza forza l'unità del pianeta. Ma il mito di Europa è comunque un mito polisemico e ne daranno prova le riflessioni geopolitiche e storiche. Come sostiene Egidio Ivetic nel suo libro Est-Ovest, che presenterà nel nostro festival insieme a Giovanni Savino, l'Europa non è qualcosa di uniforme, è una lunga faglia in cui di volta in volta i vari Est e i vari Ovest hanno disputato le reciproche aree di pertinenza nel continente e la prima frattura fu prodotta nell'impero romano dallo spostamento tra capitale a Bisanzio, Costantinopoli, la futura Istanbul sulle rive del Bosforo da parte di Costantino e dalla successiva divisione dell'impero fatta da Teodosio nel 395, che ha separato in modo irreversibile le sue due parti, teatro di due storie del tutto diverse. L'arrivo dei popoli delle steppe, nomadi sempre in equilibrio precario tra sedentari e mossi quindi dalle necessità di migrare, quindi voglio dire unni, vandali e goti segnerà la lenta fine dell'impero romano d'Occidente e la nascita dei regni romano-germanici. Si trattò di una frattura netta o di una integrazione tra civiltà diverse? Ecco, rimaniamo al punto di domanda. Ne parleranno Marco Cappelli, autore del miglior nemico di Roma, storia dei goti, rivali e alleati dell'impero, e Orazio Liccandrò dell'Università di Catania. Con l'Occidente, ormai proiettato verso il nord continentale, darà vita al sacro romano-impero carolingio. Ecco, Maometto e Carlo Magno, il binomio di Piren, sintetizza molto bene la nuova dimensione che assumerà l'Occidente tra due realtà che si scontreranno nel Mediterraneo, ma non sempre in conflitto. L'Islam, infatti, trionfa rapidamente nella mezzaluna fertile, conquistando la Spagna, i territori bizantini dell'Egitto e della Mesopotamia e della Palestina, ma non si scontra con le altre culture. La storia dell'Islam e dei suoi rapporti con l'Occidente è veramente molto complessa, segnata da momenti di ostilità con l'affermarsi dello spirito di crociata contro i turchi, ma anche da momenti di felice convivenza tra cristiani, ebrei e musulmani, in particolare nella Spagna castigliana. Frutto di tale collaborazione fu il ritorno in Occidente del pensiero di Aristotele nella interpretazione araba grazie ai traduttori della scuola di Toledo. I rapporti tra Islam e Occidente saranno presentati nella loro evoluzione storica e nel presente contemporaneo da uno dei maggiori specialisti italiani di Islam, Roberto Tottoli, dell'Università Orientale di Napoli, in dialogo con Domenico Quirico e Roberta Aluffi. Delle vicende di Bisanzio, Nuova Roma fondata da Costantino come avamposto del cristianesimo, ma anche espressione di una tradizione greca antichissima risalente alla preistoria, parleranno Silvia Ronchei e Tommaso Braccini, soffermandosi su due momenti critici, sulle due distruzioni subite dalla città. La prima nel 1204, ad opera dei crociati cristiani, provenienti da Occidente, per instaurare il regno latino, ma ben più barbari dei barbari, come li aveva definiti la raffinatissima principessa bizantina Anna Comnena. E la seconda, definitiva, provocata dai turchi ottomani, che avrebbero instaurato il secolare divano di Istanbul, più tollerante dei regni cristiani. Ecco, meglio il turbante turco, che la tiara latina suggerisce il titolo dell'intervento di Ronchei e Braccini, proponendo un rimescolamento delle carte nell'immagine di Oriente e Occidente. Rimescolamento delle carte che sembra caratterizzare anche oggi le argomentazioni degli intellettuali asiatici, come l'indiano naturalizzato americano Parag Kanna, autore di un saggio controverso dal titolo Il secolo asiatico, con punto di domanda. Domanda retorica per affermare la previsione di riscatto di un territorio che appariva sottomesso agli occhi dell'Occidente e che sembra oggi protagonista dei nuovi scenari mondiali. E se è legittimo pensare in questi termini per alcuni paesi asiatici, come l'India e la Cina, non si può però pensare all'Asia come un unico continente antagonista dell'Europa e del mondo occidentale. Ne possiamo pensare alla Russia come un paese asiatico. L'Asia non è un attore ma un'arena, per utilizzare un'espressione di Martin Wolf, editorialista del Financial Times, che interverrà in videoconferenza da Londra nel dibattito conclusivo sulla deriva dell'Occidente e l'ipotesi di un futuro asiatico con Franco Cardini e Alessandro Areso. Ma non solo l'Asia è un'arena, anche l'Occidente è diventato un'arena e quando si amalgama si cementa, ancora oggi secondo la logica bipolare si misura in uno scenario che evoca la trappola di Tucidide, quella tempesta perfetta richiamata nel titolo dell'intervento di Claudio Pagliara, domenica al Carignano che sembra prefigurare come esito inevitabile il conflitto. Speriamo di no, Peno. Ma la memoria oggi offuscata dalla storia di antiche civiltà capaci di accogliere le diverse culture e integrarle, senza annullarle, può lasciare aperto lo spiraglio di un'utopia possibile, la possibilità di una cultura della convivenza tra identità diverse che non rinuncino alla loro specificità e unicità. E' lo spiraglio indicato nell'intervento di Daniele Segre, espressione di una prospettiva che attraversa i continenti senza volerli dividere e che ci richiama il meglio della tradizione classica a cui questo festival si ispira. Ma io vorrei concludere con le parole di Marc Auger, tratte dal libro che fine ha fatto il futuro, un punto di domanda, del 2008 ma di grande attualità. Ecco, in questa pagina io trovo veramente una consonanza con il senso generale del nostro festival. Scrive Auger chiaramente la città teniese non ci fornisce un modello e nemmeno ci fornisce un ideale per la società di oggi. I nostri problemi sono su scala diversa. Piuttosto ci propone un esempio di dibattito permanente e di rifiuto di una chiusura concettuale e avremmo torto a non trarne ispirazione per aiutarci a capire come le culture siano artefatti storici necessari ma anche come l'uomo generico sia insieme il limite di ogni egemonia culturale e l'orizzonte di ogni esistenza individuale. Grazie e buon festival a tutti. Grazie. 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 Eccoci. Buonasera a tutti anche da parte mia. Grazie a voi di essere qui. Grazie al Circo dei Lettori che organizza ormai da diversi anni questo Festival del Classico che è l'unica rassegna in Italia in cui appunto si prova a partire dalla classicità, dal classicismo per arrivare fino ai giorni nostri. Il tema scelto quest'anno è molto molto peculiare. Ugo Cardinale ve l'ha anticipato, Oriente, Occidente. Parliamo di un tema che è così ampio da risultare estremamente affascinante nel senso che ne discutiamo stasera con un parterre d'eccezione ma avremmo potuto discuterne duemila anni fa a Roma così come mille anni fa a Costantinopoli, l'oderno Istanbul ma anche 200 anni fa a Mosca per dire. Ma è un tema sufficientemente ampio da generare anche qualche fraintendimento e anche che può diciamo sfociare in strumentalizzazioni e propaganda e anche di questo parleremo. Vi basti pensare che ancora oggi molte persone anche influenti ritengono che l'impero romano si è crollato perché perché sostanzialmente i romani si erano rammolliti a contatto con le mollezze provenienti dall'Oriente, tra l'altro aderendo a una lettura che già avevano prefigurato alcuni intellettuali romani della età classica. Oggi sappiamo che in realtà l'impero romano è caduto per cause molto 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 più complesse ma ecco siamo qua stasera per appunto evitare le letture superficiali facili e provare a darvi qualche strumento in più per leggere questo incontro scontro fra occidente e oriente. Qua con me vi dicevo abbiamo un parterre d'eccezione sul palco dalla mia sinistra ci sono Giulia Pompili che è giornalista del Foglio esperta di Estremo Oriente autrice della newsletter Catane sulle cose orientali abbiamo Lucio Caracciolo direttore della rivista Limes che credo qua dentro tutti conosciate e abbiamo Luciano Canfora che è filologo e professore emerito dell'università di Bari nonché apprezzatissimo divulgatore e classicista e inizierei proprio dal professor Canfora per aiutarci ad arrivare alla prospettiva che vogliamo un po' dare con questo incontro che è più contemporanea più vicina ai giorni nostri rispetto a quella dei classici e con il professor Canfora vorrei partire da un'opera che è già stata citata nell'introduzione di Ugo Cardinale e cioè la tragedia I persiani di Eschilo la prima opera teatrale arrivata in forma integrale fino a noi ed è un'opera particolare perché racconta in sostanza della sconfitta dei persiani nella guerra contro i greci dalla prospettiva persiana e i persiani vengono rappresentati come espressione di un mondo totalmente contrapposto a quello greco dal punto di vista dei valori dal punto di vista dei movi di pensare anche dall'abbigliamento è possibile che gli attori che mettevano in scena i persiani fossero vestiti in modo esotico diciamo così e poi chiaramente nel mondo greco i persiani hanno avuto un la tragedia di persiani ha avuto un forte valore propagandistico nell'atene classico ovviamente ma in realtà questa contrapposizione forte fra appunto oriente occidente noi e loro ha trovato spazio in varie espressioni della del pensiero occidentale al professor Canfora volevo chiedere appunto di aiutarci ad andare un po' alle origini di questo pensiero e capire anche quando è riemerso poi nel corso della storia occidentale da questa tragedia di Eschilo tra l'altro perché è l'unica di cui abbiamo certamente notizia che metta in scena dei fatti storici sia pure non proprio immediatamente recenti quando va in scena la tragedia i fatti sono avvenuti già da alcuni anni ci sono personaggi politici di primo piano che pagano le spese per il coro e c'è da dire anche che ben presto gli autori che portano i loro drammi sulla scena abbandonano la tematica direttamente storico politica e parlano di meti remoti attingendo molto spesso al ciclo troiano c'è un nesso tra le due cose perché la rilettura se vogliamo suggerita da Erodoto della vicenda la guerra in due tappe fra Atene e poi la lega panellenica e i persiani la rilettura che lui ne propone facendosi portavoce della politica di Pericle richiama la guerra di Troia come antefatto quindi una guerra tra Oriente e Occidente sia pure scaturita da un episodio privato da ultimo un libro tutt'altro che trascurabile di Godard ha prospettato una lettura della guerra di Troia completamente diversa come una guerra civile tra gli Achei tra Greci sostenendo egli che alcuni indizi dentro i poemi omerici fanno capire che probabilmente Priamo che è un nome greco fra l'altro cappeggiava una realtà una città fortificata con un regno intorno molti alleati di provenienza Achea non entriamo nel dettaglio ci sono molti elementi interessanti in questo libro in un altro studio quello di Klein che parla di queste vicende inquadrandole nella storia del mondo arcaico si porta l'ipotesi che invece il regno di Priamo fosse un regno cliente dell'impero ittito va bene Erodoto semplifica le cose ma non lui soltanto è una rilettura patriottica per cui le guerre persiane sono la vittoria dei greci sui barbari e hanno come antefatto la conquista di Troia da parte di Agamennone e agli altri sovrani micenei e quindi il futuro prossimo è l'inveramento di questa vittoria di cui anche i poeti si fanno interpreti portando sulla scena quelle vicende naturalmente la propaganda è una cosa seria l'essenziale è non crederci però è importantissima e nell'Atene in cui Eschilo mette in scena quella tragedia Erodoto legge brani della sua opera in pubblico magari talvolta anche contestato va detto che il teatro è probabilmente il luogo più efficace dal punto di vista propagandistico mentre all'Assemblea Popolare vanno poche persone abbiamo delle cifre abbastanza imbarazzanti in proposito al teatro vanno tutti e quindi chi parla attraverso il teatro è molto più efficace dell'uomo politico che sale sul bema e fa un discorso magari contestato dai presenti che sono molto attivi ma sono molto pochi perché questa riproposizione di un tema palesemente propagandistico e perché l'impero ateniese di cui Erodoto si fa cantore in certo senso ha bisogno di riportare alla memoria dei viventi quell'antefatto qual è il problema dei viventi quando Erodoto si esprime? che l'impero di Atene è diventato oppressivo e gli alleati che a suo tempo, il 478, hanno promosso la lega delioattica con l'obiettivo di continuare la guerra contro la Persia ora, dopo decenni, mordono il freno perché l'alleanza paritetica è diventato un impero oppressivo le isole maggiori forniscono contingenti di navi quelle minori pagano il tributo il tributo serve a dare il salario agli atenesi che fanno politica e magari si sostengono, vivono grazie al denaro dello Stato che è impinguato dal foro spagato dagli alleati allora Erodoto in una pagina famosa del settimo libro dice sostanzialmente cari greci ricordatevi che dovete la libertà ad Atene e quindi arrangiatevi se Atene è diventata oppressiva Tucidide fa parlare Pericle nel secondo libro della sua opera in un momento critico e Pericle dice agli Atenesi, secondo questo discorso che Tucidide gli fa pronunciare l'impero è tirannide e non si può uscire dall'impero perché si è stanchi l'impero è tirannide, è la vera verità l'impero è giusto perché 50 anni fa abbiamo sconfitto i persiani è propaganda e il teatro si presta in quel caso a rinfocolare questa lettura che è una lettura totalmente ideologica quindi va rispettata come tale se uno si rende conto della sua natura perché dico questo? perché nel corso del cinquantennio tra la fine della seconda guerra persiana e lo scoppio della guerra del Peloponneso la Persia è un interlocutore costante raffigurarla come il luogo della schiavitù e noi della libertà fa un po' sorridere se si pensa alle cifre della schiavitù vigente nel mondo greco centinaia di migliaia rispetto a un'elite Tocqueville diceva che il popolo di Atene è un'aristocrazia un po' larga va bene e non è un paradosso dice una cosa fondata quindi dire quelli sono schiavi è pura propaganda altri persiani entrarono in scena molto dopo tempi di gran lunga successivi a quelli di Timoteo noi abbiamo un brano abbastanza cospicuo dei persiani di Timoteo e il barbaro persiano è raffigurato come un vile un inetto un piagnucoloso che implora pietà quindi siamo in una raffigurazione completamente destituita di fondamento tra l'altro quello che colpisce nell'arroganza dell'autostima del mondo greco in particolare Atenese che è quello meglio conosciuto quello che colpisce è la dimenticanza del debito enorme verso le civiltà egizia, mesopotamica, persiana che ogni tanto qualche intellettuale come Platone ricorda nel Crizia o nel Timeo dicendo facendo dire ai sacerdoti egiziani a Solone che è andato lì in Egitto che voi siete dei fanciulli cioè quando avete mosso i primi passi noi eravamo molto lungi dalle origini eravamo molto più avanti sostanzialmente sul piano dei rapporti politici la Persia barbaro come De Mostre ne prende in giro questo continuo ripetere il barbaro, il nemico di sempre la Persia è il regista della politica greca De Mostre ne lo dice in un famoso abbasso della Quarta Filippica brutalmente realpolitico cari Atenesi ricordatevi che il gran re alzava una delle potenze greche in ribasso fino a portarla al livello dell'altra poi la piantava e appoggiava l'altra e tutta la vicenda che parte dall'indomani stesso delle guerre persiane Pausania, reggente spartano che cerca il contatto addirittura l'alleanza matrimoniale con la Persia Otemistro che muore in Persia ospite del re di Persia gli spartani che chiedono l'intervento persiano e vincono la guerra contro Atene grazie alla Persia che gli paga il salario dei marinai sono quello che De Mostre ne dice in sintesi il grande regista della storia greca Karl Julius Beloch mordace diceva la storia greca è un caso particolare della storia persiana coinvolgo Giulia Pompili perché il professore ha parlato di immagine caricaturale che appunto veniva fatta dei persiani ad Atene e mi è venuto in mente un po' l'immagine a volte caricaturale un po' esotica che noi diciamo che che sui giornali a volte anche un po' nel nostro immaginario viene mutuata riguardo alla Cina al Giappone alla Corea del Sud e a tutta la regione e quindi volevo chiedere a Giulia Pompili da giornalista come si fa a raccontare in un modo più aderente alla realtà meno appunto orientalista questi posti tu che lo fai da così tanto tempo grazie Luca devo dire che non è facile prendere la parola dopo il professore naturalmente io appunto quello che posso portarvi è l'esperienza giornalistica l'esperienza un po' più sul campo di chi da occidente deve raccontare l'Oriente innanzitutto diciamo c'è stata un'evoluzione anche linguistica una giornalista che si occupa dei temi di cui mi occupo io non si chiama più una giornalista di Estremo Oriente ma oggi di Indo-Pacifico segui i temi dell'Indo-Pacifico perché non si usa più la parola Oriente anche nella scrivere quotidianamente il giornale perché mostrava un pregiudizio geografico cioè il tuo posizionamento geografico voleva dire che l'Occidente era il centro e quello che c'era di là era quello che stavi raccontando quindi perfino il nostro Ministero dell'Economia definisce i mercati lontani quelli dell'Indo-Pacifico e ancora oggi è un'espressione diciamo usata nei documenti ufficiali ci siamo evoluti da questa prospettiva occidentocentrica del racconto di quello che per noi è effettivamente tecnicamente Oriente ma che è il racconto dell'Indo-Pacifico che prima si chiamava Asia-Pacifico ma diciamo la definizione escludeva l'India e quindi abbiamo inserito anche anche per ragioni politiche l'India nella descrizione della regione questa mattina come credo tanti di noi mi sono andata a rileggere alcune note di del Dipartimento di Stato americano del famoso viaggio primo viaggio di Kissinger a Pechino c'è lui con Zhu Enlai primo incontro con il primo ministro cinese e ci sono le note esattamente di quello che si dicevano in quell'incontro siamo nel luglio del 1971 esattamente le parole e le frasi pronunciate e si nota in qualche modo se ci fossero due attori a interpretarla con la conversazione si noterebbe molto l'idea di un approccio molto pragmatico come era quello di Kissinger che voleva cioè era seduto lì perché voleva organizzare l'incontro con tra Mao e Nixon l'incontro che poi ci sarà un anno dopo e che cambierà la storia però l'allora consigliere alla sicurezza nazionale americana di Nixon va da Zhu Enlai e lo fa con un atteggiamento da politico americano quindi si sente si percepisce il primo ministro cinese che ogni tanto lo interrompe gli offre una sigaretta gli fa delle domande per capire quanto Kissinger effettivamente fosse preparato a quell'incontro quindi gli chiede se ha letto degli articoli che lo definivano un leader autoritario e Kissinger ovviamente dice di no non sapremo mai probabilmente se era vero oppure no però diciamo mentre venivo qui e leggevo queste cose mi ha molto rappresentato quest'idea di scontro e tentativo di incontro tra Oriente e Occidente quella conversazione è lì e poi dopo quando effettivamente c'è l'incontro tra Nixon e Mao uno dei passaggi fondamentali della conversazione tra i due Mao dice a Nixon si parla della questione di Taiwan che è al centro ovviamente della conversazione la Cina rivendica Taiwan già allora rivendicava Taiwan Taiwan era il paese la Repubblica di Cina era il paese che l'America effettivamente riconosceva e che avrebbe dovuto lasciare per riconoscere la Repubblica Popolare Cinese tutta la negoziazione si gioca su questo assunto qui e alla fine Nixon che dice a Mao di conoscere perfettamente Taiwan di conoscere perfettamente il generalissimo Chiang Kai-shek Mao è lapidario e gli dice nessuno può conoscere meglio di me Chiang Kai-shek perché noi siamo della stessa famiglia quindi non inventarti di sapere quali saranno le sue reazioni nessuno può parlare di Chiang Kai-shek come ne posso parlare io quindi proprio la definizione di una sorta di incomunicabilità politica e che però va avanti lo stesso riconoscendo le posizioni diverse e l'incomunicabilità su alcune cose tutta questa premessa per dire che dal punto di vista giornalistico ovviamente è una bella sfida è una sfida raccontare tutte queste sfumature e per riportarla all'oggi un caso di scuola che si fa che si studia nelle scuole di giornalismo nel racconto dell'Indo-Pacifico è la Cora del Nord è il grande paese di cui nessuno sa niente per ragioni diciamo ontologiche perché il regime è fatto per comunicare solo quello che vuole la leadership dunque come si racconta da occidente un paese come la Corea del Nord non è facile come diceva il professore bisogna diciamo assumere il fatto che la propaganda è quella che regola in qualche modo tutte le dichiarazioni ufficiali però allo stesso tempo non cadere nella trappola dell'esotismo e quindi tutte le notizie che sono circolate su anche una certa romanticizzazione nel periodo in cui ci fu il grande avvicinamento recentissimo durante le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang in Corea del Sud per la prima volta un membro della famiglia dei Kim la sorella di Kim Jong-un Kim Yo-jong viaggiava nel territorio sudcoreano per partecipare all'inaugurazione delle Olimpiadi Invernali in quella fase lì in Corea del Sud c'era un presidente democratico quindi per sua natura politicamente molto predisposto all'apertura verso il nord Moon Jae-in ex avvocato dei diritti umani aveva di fatto lasciato la partecipazione diciamo approvato e lavorato per la partecipazione congiunta di Corea del Nord e Corea del Sud a queste Olimpiadi Invernali Kim Yo-jong arriva in Corea del Sud e viene accolta perfino dai giornali sudcoreani con un'aura di mistero ma diciamo romanticizzata appunto quindi si cercava di capire quale tipo di rossetto usasse come come si ponesse con gli altri se era di buone maniere oppure no e sappiamo poi a distanza di anni sono passati almeno cinque anni da quelle Olimpiadi gli analisti di intelligence sudcoreana ovviamente hanno notato un certo tipo di predisposizione dalla parte della delegazione nordcoreana di far di aumentare questo genere di commenti un po' pop sulla leadership perché effettivamente toglievano un po' l'attenzione su tutta una serie di altre cose che era poi la manipolazione che stava avvenendo in quel momento proprio per cercare di guadagnare aiuti alimentari apertura a livello internazionale e in effetti poi c'è perché dopo poco c'è l'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un ma diciamo in quel momento la manipolazione cioè la trappola in cui cadono i giornali i giornalisti perfino quelli sudcoreani è quella dell'evento raccontato in maniera straordinaria da occidente c'è ancora di più il pericolo di cadere spesso nel racconto dell'evento eccezionale poche settimane fa ero a Taipei e tantissimi anche membri delle istituzioni insomma mi raccontavano di quanti giornalisti andavano a Taipei in cerca della guerra proprio volevano vedere gli elmetti come nel Donbass probabilmente e diciamo la situazione invece è molto diversa certo c'è una consapevolezza diversa da quando è iniziata l'invasione su larga scala della Russia da parte della Russia e dell'Ucraina ma di sicuro non c'è un'area di guerra come quella che dovrebbe essere raccontata dai reporter di guerra sul fronte ecco tentare di immergersi nella cultura che non significa scadere poi e cadere nelle trappole degli orientalismi un tempo in Giappone per esempio i corrispondenti soprattutto europei ci andavano perché mossi da grandi passioni di arti marziali marzialismo la cultura del Bushido i tatuaggi e i manga questo ovviamente portava a un estremo opposto cioè non riuscire a raccontare un paese se non attraverso quella lente lì della cultura e del tentativo forzato di mettere la cultura come giustificazione di ogni cosa d'altra parte ovviamente l'immersione in un posto fisicamente aiuta a porre una prospettiva diversa ai lettori sempre europei perché questo è un altro aspetto fondamentale del lavoro giornalistico cioè si parla quello che noi raccontiamo dell'Indo Pacifico o dell'Oriente è quello che vogliono leggere e che devono leggere quali sono le cose importanti che devono leggere e devono sapere i lettori occidentali direttore Caracciolo Giulia Pompili accennava a queste relazioni ondivaghe accidentate fra per esempio l'acqua del nord gli Stati Uniti la Cina gli Stati Uniti ecco appunto sull'asse oriente occidente oggi queste relazioni politiche ci appaiono come di enorme contrapposizione divergenti in una maniera quasi insanabile eppure per esempio su un piano commerciale avvengono scambi quotidianamente ci sono paesi europei che hanno la Cina come principale partner commerciale e per certi versi è anche molto difficile per esempio nell'istituzione europea arrivare a una definizione condivisa di che cosa può essere la Cina e possiamo discutere davvero per giorni sulle definizioni possibili come si conciliano questi piani così diversi appunto fra la contrapposizione politica e appunto una realtà di scambi e rapporti che comunque vanno avanti ormai da decenni e sono direi consolidati grazie buonasera beh intanto si conciliano benissimo perché questo è un dato di fatto quello che state descrivendo però prima di entrare rapidamente nel merito della domanda che mi viene posta una considerazione da direi un secolo dalla prima guerra mondiale certamente dopo la seconda quelle che erano delle categorie essenzialmente culturali oriente e occidente sono diventate categorie geopolitiche direi meglio strategiche quando gli americani dicono the west tendono fondamentalmente l'America più l'america più più noi europei più magari con una certa larghezza includiamo nell'occidente anche gli alleati principali dell'america in asia cioè giappone la corea del sud punto quindi dobbiamo sempre tenere presente che essendo queste categorie utilizzate in una competizione geopolitica in una visione strategica sono di scarso valore analitico direi nullo valore analitico mentre sono di forte valore valoriale strategico e propagandistico diceva prima giustamente e quindi sono importanti per questo e la prima cosa che salta gli occhi anche nel mio breve percorso mica tanto breve percorso di vita è vedere come la categoria occidente abbia cambiato di segno con il passare dei decenni dopo la seconda guerra mondiale quando the west era appunto l'alleanza atlantica guidata dall'america e the east era l'unione sovietica la cina e quant'altro e l'europa orientale fondamentalmente questo per dire che specialmente adesso dobbiamo stare molto attenti a usare i termini nel loro contesto e specialmente in una fase di guerra in cui la propaganda dilaga cercare di separare il grano dall'olio quello che ha un valore appunto di spiegazione analitico e quello che invece è pura propaganda ci ho detto credo che la categoria di occidente abbia una sua pregnanza abbastanza precisa ho fatto prima una definizione di alcuni paesi atlantici più indo-pacifici l'india magari no nel senso che l'india è un paese abbastanza a sé e credo che anche il giappone tornerà a essere sta già tornando ad essere un paese abbastanza a sé però diciamo il mondo a guida americana l'oriente no non saprei dare una definizione perché evidentemente ci sono tanti modi di essere in Asia appunto un'arena non un soggetto geopolitico per non parlare del mitico sud globale un altro termine formidabile che improvvisamente crea la categoria del global meridionale veramente uno stimolo perfetto ancora una volta occhio alle parole il problema dell'occidente e quindi in questo spazio diciamo a guida americana che ho tratteggiato nei confronti del resto del mondo lo si vede nel passaggio che avviene in un paio d'anni tra l'89 e il 90 91 quando crolla il muro di Berlino si riunifica la Germania e si suicida l'Unione Sovietica e quindi quel valore che aveva prima la divisione est-ovest oriente occidente cambia perché l'occidente diventa improvvisamente globale come amava dire e cioè si formava in particolare in America in una parte dell'elite americane la convinzione che adesso l'America fosse una nuova Roma e doveva espandere la sua influenza il suo verbo e la sua forma di governo gradualmente o nemmeno troppo gradualmente al resto del pianeta e quello che probabilmente non avevano ben capito i leader americani in quella fase che va dagli anni 90 fino direi al 2007 il famoso rapporto sull'Iraq commissionato dall'amministrazione George W. Bush cioè quando l'America si rende conto che era finita in una trappola la famosa guerra al terrorismo e adesso Biden ha definito un errore ma all'epoca non lo definiva tale cioè quella di combattere non un avversario ma un modo di fare la guerra e quindi praticamente una guerra senza limiti ecco l'America comincia a capire che deve darsi dei limiti darsi un limes e proteggerlo contro le incursioni altrui e questo significa che l'idea della globalizzazione in senso occidentale cioè dell'occidente che diventa globo ancora una volta uno simolo non si dimostra realistica e gli ultimi anni segnalano appunto una crisi direi identitaria che travaglia l'America ma travaglia soprattutto gli americani l'elite americane c'è una letteratura sul declinismo americano veramente sconfinata e fra l'altro ha avuto l'effetto di convincere i cinesi e magari anche i russi che l'America fosse moribonda e che quindi fosse il momento di approfittarne produzione americana spontanea e credo assolutamente sincera e che continua anzi prende toni quasi agghiaccianti talvolta bene questo significa che l'America deve fare i conti col fatto che a differenza della fase della guerra fredda quando aveva di fronte un avversario che però era anche un partner dal punto di vista degli assetti globali nel senso che appunto l'America aveva un nemico chiaro con un regime totalmente diverso con un'ideologia totalmente diversa peraltro entrambe le ideologie fondamentalmente universaliste e non particolari e dall'altra parte abbiamo la fase successiva in cui l'Occidente si trova improvvisamente senza sponda e quello che sta accadendo è il tentativo di recuperare una sponda per un'America che ha ristretto le sue ambizioni e deve gestire una crisi credo mai vista almeno da quando da quando ce ne occupiamo insomma detta in formula che non significa nulla ma per evocare il tema l'Occidente ha bisogno dell'Oriente così come l'Oriente ha bisogno dell'Occidente quello che è successo anche nell'ultime settimane passiamo alla cronaca è proprio un ritorno di consapevolezza direi un po' in tutti gli attori principali ma specialmente in americani e cinesi del fatto che non ci si può spingere oltre in questa contrapposizione totale e bisogna gestire un mondo che non può più tollerare una guerra davvero mondiale nel senso che sarebbe davvero l'ultima guerra e questa consapevolezza alimentata dai commerci dai traffici ma non discesa da questi è direi il tono dominante di questi ultimi mesi e di questi ultimi anni dopo una fase in cui come tu dicevi prima i giornalisti andavano a Taiwan a cercare una guerra che non c'era questo è un momento quindi anche se vogliamo di speranza di un ritorno di un grado accettabile di realismo di guardare le cose per quello che sono favorito come dicevo dai commerci che non esistevano quasi al tempo della guerra fredda perché non avevano molto da scambiarsi unione sovietica e stati uniti mentre hanno moltissimo da scambiarsi cinesi asiatici in genere estremo orientali in genere indopacifici e americani occidentali un'altra cosa chiudo che è cambiata il mio corso di vita è non solo la potenza ma la quantità dell'occidente cioè negli anni 50 per non parlare di prima gli occidentali non erano solamente potenti dominanti ma erano tanti oggi su circa 8 miliardi errotti di umani mettendo insieme quei paesi che dicevo prima con i rispettivi popoli arriviamo al miliardo e qualcosa con una tendenza al mantenimento in nord america con una forte tendenza al declino in gran parte dell'europa e con un leggero aumento nella parte asiatica dell'occidente insomma un ottavo dell'umanità non può avere enormi ambizioni e quindi quella visione orientalista dell'occidente cioè di una parte del mondo superiore dotata della non solo della capacità ma del diritto di esportare se stessa per il bene dell'umanità è una tesi abbastanza difficile da sostenere lo dico da occidentale occidentalista in una città occidentale di un paese occidentale come l'Italia quindi non è una visione da Marte sono ovviamente come dicono nel West segnato da un bias però questo bias mi porta a constatare che insieme alla mia affezione per l'occidente sono parte di un insieme che non è esattamente nella sua stagione più alta e lasciamo stare gli aspetti biologici che pure contano cioè il fatto che il sud globale come lo chiamiamo è in una fase adolescenziale dal punto di vista dell'età mediana della popolazione noi in una fase leggermente più senile e come sappiamo il dialogo tra padri e adolescenti non è il più facile del mondo ritorno dal professor Canfora perché in questa conversazione abbiamo parlato spesso di propaganda e allora volevo tenerlo su questo tema prima anche lei citava il brano di Tucci del secondo libro della guerra del popolneso cosiddetto epitafio di Pericle che letto diciamo nel contesto originario era di fatto una legittimazione dell'impero ateniese ma che oggi è stato riletto e di fatto viene utilizzato come un brano a favore della democrazia in senso più ampio tra l'altro piccola parentesi ne circola anche una versione spuria nel senso che la versione in cui probabilmente anche voi avete avuto più contatti che è quella che inizia con qui ad Atene facciamo così con questa anafora qui ad Atene eccetera eccetera quella anafora non c'è nel testo originale di Tucide ecco cosa ci dice il fatto che quel singolo pezzo di propaganda sia stato impacchettato e ancora oggi circoli di fatto come un pezzo di propaganda anche se in un altro senso sono costretto a seguire questa tematica ogni tanto me ne sono occupato quindi ho il senso come dire della ripetizione che può essere molesta però cercherò di non ricalcare proprio le orme una piccola rettifica pedantesca ma i professori sono pedanti quindi vanno sopportati come tali in realtà la frase che ho ricordato prima è nell'ultimo discorso di Periglia cioè quello che lui pronuncia quando lo hanno ormai cacciato dalla strategia cosa che fa scandalo dopo decenni di rielezione e i suoi avversari politici stanno cercando in vano una pace subito con Sparta che respinge questo perché è convinta che la guerra sia disastrosa per Atene la peste e il fallimento strategico e Periglia risale la china con un discorso che Tucidide mette per iscritto in forme dirette ma credo molto vicine a ciò che fu veramente detto e riesce a riprendere in mano la situazione anche perché Sparta ha respinto le avance dei suoi avversari avance compiute a sua insaputa il famoso epitafio come dire è un modello di falsità consapevolmente tale il nipote di Periglia era un ragazzaccio no era un politico piuttosto vivace nella vita privata si chiamava Alcibiade quando va a Sparta perché lo vogliono condannare ad Atene per reati che forse aveva commesso ma reati sacrali la parodia dei misteri eccetera tutta gente molto laica di testa ma religiosa in pubblico quando va a Sparta dice la democrazia lui è un leader di Atene è stato fino a poco tempo prima è una follia universalmente riconosciuta come tale ma noi la dobbiamo guidare perché senza di noi era peggio cioè noi signori noi elite avevamo il compito di guidarla e lo stesso Ducidide quando parla di Perige ormai morto e ne fa un ritratto memorabile dice sotto di lui democrazia solo a parole quindi nonostante gli sforzi dei nostri colleghi professori e non professori anche dilettanti di dire quel discorso è il manifesto della democrazia mondiale universale perenne nonostante gli sforzi generosi ma inutili quel discorso è l'esatto contrario in quanto le falsità si toccano con mano tutti piangono metaforicamente dinanzi al filosofumen noi filosofeggiamo senza mollezze lo dice uno che ha visto Anasagora amico suo scappare da Atene per non essere ammazzato in quanto ateo va bene quindi è ridicolo nei tribunali siamo tutti sullo stesso piano i tribunali atteniesi erano peggio di quelli statunitensi giudici popolari che non capivano niente perseguitavano la ricchezza in quanto tale per cui dire che uno vale uno davanti ai tribunali atteniesi fa solo ridere basta leggere Aristofane per sapere che cos'erano i tribunali e la mania tribunalizia dell'attenese medio e democratico quindi è chiaro che è un discorso pieno di parole che sono destinate all'educazione civica in pubblico una volta all'anno dopodiché non è neanche vero che lì dentro ci sia una esaltazione della democratia una grandissima studiosa francese molto longeva scomparsa da qualche anno che ha dedicato tanto allo studio Jacqueline de Romilly commenta nell'edizione per le belle lettere anche quel libro il secondo libro e commenta quelle parole che Giuliano Amato e Giscard d'Esten pensavano di mettere come simbolo dell'Unione Europea la democrazia è il nostro regime politico perché si fonda sulla volontà della maggioranza dice la Jacqueline le parole che lui adopera che sono le seguenti il nome è democrazia del nostro sistema ma noi garantiamo la libertà significa che Perigle ne parla con disagio cercando di spiegare che in mancanza di meglio usiamo questa parola però chiariamoci subito che non si tratta di questo e Tucci lo dice poche pagine dopo democrazia solo a parole perché è diventato un grande pensatore spesso tirato di qua e di là certamente piuttosto scomodo come personaggio si chiamava Friedrich Nietzsche è l'unico che ha capito un brano dell'epitafio tremendo quello finale in cui lui dice Atene non ha ancora trovato un Omero che ne canti le gesta ma noi abbiamo disseminato su tutto il mare su tutta la terra monumenti di male e di bene di male allora i filologi che fanno è un'espressione polare allora il polare vuol dire il polo nord Nietzsche dice giustamente che Perich esalta il male che abbiamo fatto al mondo con le nostre armi con le nostre navi questo è il contenuto non credo che Perich abbia detto tutto quello che Tucci gli fa dire però è un gioco perfido per rappresentare al livello più alto che cos'è l'educazione civica pubblica atenese annuale obbligatoria è diventato un testo emblematico sì e no potremmo dire tanto perché il greco non è la lingua più nota del mondo il greco antico purtroppo no no va bene la storia è quello che è ma per una ragione che per non togliervi tempo in maniera così troppo scostumata dirò con le parole di uno scrittore colombiano che ha avuto grande successo in tanti no Gabriele Garcia Marquez in una famosissima sua intervista ripresa dalla Repubblica ma in realtà concessa a un giornale spagnolo credo al Paese gli diceva all'indomani della fine dell'URSS del cambio che è stato descritto da Lucio Caracciolo poc'anzi l'illusione ottica americana portare il proprio modello dovunque no dimenticandosi di Robespierre che diceva contro i girondini i popoli non amano i missionari armati non li vogliono va bene cosa dice Garcia Marquez si dice assistiamo ad un fondamentalismo democratico che l'Occidente esibisce ritenendo pessimo tutto ciò che non gli rassomiglia senza rendersi conto come scrisse una volta un giornalista e studioso notevole che si chiamava Alberto Ronchei su un giornale moderato il Corriere della Sera pagina 1 settembre del 1990 i popoli vanno capiti iux da propria principia non esistono modelli assoluti che vanno comunque con le buone o le cattive imposti e questo è un insegnamento che l'Occidente prima o poi dovrà capire restiamo sul tema della propaganda assieme a Giulia Pompili tu appunto ti sei occupata molto anche di Cina che è un formidabile produttore di propaganda e la sua agenzia di Stato che traduce tra l'altro testi in inglese nelle lingue europee è una a sua volta formidabile produttrice di propaganda ecco ti chiedo quali sono gli esempi più diciamo ti chiedo che cosa qual è il seme l'aspetto di questo tipo di propaganda che la rende che la rende adatta a proliferare anche in occidente anche in Europa perché ormai appunto di propaganda cinese e ovviamente anche russa siamo circondati e a volte sembra che ci manchino un po' gli strumenti per difenderci secondo te perché è questo il caso beh la prima questione naturalmente riguarda le fonti giornalistiche cioè se l'agenzia di stampa cinese la Sinua produce e riproduce esattamente quello che la leadership vuole forse potremmo anche non chiamarla propaganda potremmo chiamarla semplicemente espressione di quello che viene definito corretto secondo la leadership per parlare proprio per priorità ecco naturalmente oggi esistono altri strumenti per fare propaganda e penso naturalmente ai social network insomma se Elon Musk fosse fosse nato qualche secolo fa probabilmente avrebbe fatto altro i social network sono un incredibile strumento per manipolare l'informazione e per diciamo distribuire una certa dose di propaganda tale da essere verosimile per la maggioranza quindi chi legge dice potrebbe essere vero è la verità che mi fa più comodo che mi piace di più influenza il mio pensiero a tal punto che appunto anche in occidente chi è nato è cresciuto secondo i principi della democrazia dello stato di diritto finisce per credere a delle cose incredibili penso insomma a qualcuno che era perfino nel nostro parlamento fino a qualche tempo fa che credeva alle sirene e alle scie chimiche insomma un ex leader di un partito italiano ha fatto la sua fortuna su internet proprio propagando una serie di bufale che erano esattamente questo il tentativo di rovesciare delle convinzioni che avevamo quindi diciamo a sua volta molto vicino alla Cina a sua volta molto vicino alla Cina forse non a caso comunque la manipolazione della realtà che avviene attraverso i social questo è fondamentale l'ultimo caso di forse propaganda istituzionalizzata comunque di manipolazione della realtà per scopi politici da parte della Repubblica Popolare Cinese è avvenuta non più di un anno fa quando il Giappone ha iniziato a sversare le acque di Fukushima nell'oceano quella operazione che già detta così è un po' spaventosa ma è stata studiata per anni insieme all'Agenzia Internazionale per il Nucleare c'era un problema tecnico di non riuscire più a mantenere i silos pieni di acqua che serviva al raffreddamento dei reattori della centrale nucleare di Fukushima quella che fu colpita dal terremoto e dallo tsunami del 2011 una tragedia gigantesca in mane quella qua lì il famoso trizio la gente radioattivo che entro i primi dieci anni cioè all'inizio della decade successiva dalla sua apparizione inizia a perdere radioattività motivo per cui lo sversamento è iniziato dopo dieci anni esattamente beh comunque quell'acqua veniva trattata secondo dei processi sofisticatissimi che erano stati studiati dal governo giapponese insieme alle organizzazioni internazionali e finalmente inizia questo lentissimo sversamento nelle acque la Cina comincia con un boicottaggio violentissimo nei confronti del Giappone alleato dell'America quindi che fa parte di quel west di cui parlava Caracciolo quindi sempre e questo è un metodo formale molto usato dalla Cina cioè colpire l'alleato senza colpire direttamente l'America poi vi faccio anche un altro esempio comunque Pechino inizia a accusare il Giappone di voler di voler inquinare le acque attorno le acquasi atiche tutti gli oceani irresponsabile qualsiasi tipo di epiteto contro il governo giapponese salvo poi andare a pescare legalmente nelle acque esattamente dove era dove stavano sversando di fronte Fukushima dove stavano sversando i silos nonostante il blocco a tutte le importazioni di tutti i prodotti ittici dal Giappone verso la Cina quindi una misura economica molto chiara quella che viene definita oggi coercizione economica cioè faccio un'azione economica per delle ragioni politiche naturalmente si è rivelata una bufala nel senso che era chiaramente propaganda quella cinese nonostante i continui ritorni anche nelle ultime recenti conferenze stampa del portavoce del ministero degli esseri si ritorna sempre comunque spesso sulla questione Fukushima e questo nonostante non ci sia nulla da dire su quella questione nel senso che lo sversamento è assolutamente sicuro un sacco di gente ci crede perfino i giornali italiani il giorno dopo lo sversamento titolarono oddio il Giappone vuole mette l'acquaria diattiva negli oceani questo è un grande esempio di manipolazione delle notizie che serve a un guadagno politico ovviamente di costruzione di un'immagine di attore responsabile sulla scena globale o soprattutto che è l'obiettivo poi fondamentale di Pechino in quello che viene definito il sud globale un'entità che ancora non abbiamo capito esattamente cosa sia ma quella l'altro esempio recentissimo riguarda una produzione cinematografica perché tanto di questa propaganda poi passa attraverso come diceva il professore nei teatri oggi e nei cinema quindi uno dei colossal tra i più visti in Cina recentemente è un colossal sulla guerra di Corea sull'evacuazione di alcuni cinesi della guerra di Corea guerra di Corea 1950-1953 una una guerra che è sempre stata vissuta dalla leadership cinese come una cosa di cui non parlare un po' imbarazzante per la storia cinese perché effettivamente la Cina entrò in una guerra la prima vera contro l'America il motivo per cui è fondamentale rileggerla oggi senza essere convintissima quando Kim Il-Sang il leader allora leader nordcoreano decide di riunificare la penisola coreana era di fatto un'invasione perché passa attraverso il 38esimo parallelo ma anche qui le due versioni della storia sono diciamo contrapposte una sarà propaganda e l'altra no a voi insomma l'interpretazione la Cina probabilmente non era stata avvisata di questa operazione che si stava per fare nel 1950 e quando il generale MacArthur va in aiuto della Corea del Sud e riesce non solo a tornare sul 38esimo parallelo ma decide su spinta americana di riconquistare anche lui tutta la penisola quindi fa esattamente quello che avevano fatto pochi mesi prima i nordcoreani cioè riprendersi l'intera penisola coreana arrivare fino al confine cinese allora è lì che Mao dice beh no adesso proprio farli arrivare al nostro confine non se ne parla e manda il famoso battaglione dei volontari di Mao che effettivamente aiutarono i nordcoreani a tornare sulla linea del 38esimo parallelo poi vari anni di piccole più piccole battaglie e tutto si chiude con un armistizio nel 53 perché vi racconto questa cosa perché il fatto che Mao non fosse stato avvisato probabilmente dell'invasione o dell'operazione che stava preparando Kim Il-Sang che era un po' il suo protetto diciamo fu un motivo di grande imbarazzo a Pechino tant'è vero che aspettò moltissimo la leadership cinese prima di entrare in guerra a difendere i nordcoreani quindi per anni per decenni direi non se ne è mai parlato tantissimo della guerra di Corea uno o due anni fa è uscito questo colossal gigantesco in cui invece si celebra esattamente la stessa operazione che negli anni 80 fece l'America con Top Gun si celebra l'impresa cinese della guerra di Corea ovviamente parlandone come di una guerra di liberazione e non come di difesa e non come di diciamo togliendo tutta la parte precedente che era appunto la prima invasione da parte di Kim Il-Sang ma questo per dire che proprio c'è una un ritorno storico e una rimodulazione della storia in funzione dello scontro tra America e Cina che la Cina diciamo promuove anche attraverso dei prodotti culturali di massa che sono quelli poi che accendono di più la propaganda non so se ho risposto alla tua domanda però è risposto indirettamente e allora chiudiamo il giro con una domanda al direttore Caracciolo poi intanto chiedo a voi se ne avete perché abbiamo spazio per una o due domande al pubblico quindi lo lasceremo direttore chiedo di estrarre la sua palla di vetro che credo tenga nascosta dietro la sedia per darci un po' delle linee di interpretazione riguardo appunto al rapporto occidente-oriente a medio-lungo termine oggi è iniziata la COP negli Emirati Arabi Uniti la conferenza sul clima sui cammini climatici organizzata dall'ONU sappiamo che ci sarà uno scontro che la COP sarà un terreno di scontro fra anche qui l'Occidente il Sud Globale e la Cina abbastanza colta in mezzo però siamo anche molto consapevoli che appunto la COP sarà una tappa rimane un puntino di una contrapposizione di un rapporto complesso più lungo ecco se ci aiuta un po' a definire questa questo orizzonte che ci aspetta mi sembra che ecco mi sembra che questo sia un buon modo ecco per chiudere questa nostra conversazione ma io resto dell'idea che la partizione oriente-occidente non serva a capire nulla e resto convinto che ci siano molti modi di interpretare o di sentirsi occidentali e orientali e poi per quanto riguarda anche certi regimi che ostentano la propria assoluta diversità vorrei ricordare che tutta la famiglia Kim di padre in figlio partendo dal nonno è stata educata in collegi svizzeri quindi insomma qualche idea di come siamo fatti noi ce la dovrebbero avere e anche il loro stile di vita peraltro sappiamo abbastanza grandi mangiatori di formaggi non è? sì no ma non solo ma insomma i piaceri della vita non li escludono nessuno e me ne sono contento per loro ciò detto se vogliamo invece parlare di Stati Uniti e Cina e non parlare a mio avviso di coppe perché le coppe sono veramente una bufala nel senso più stretto del termine come storia dimostra non combinano mai nulla di concreto invece parliamo di Cina e Stati Uniti io vorrei ricordare due tu prima ricordavi giustamente l'incontro fra Kissinger e Zhou Enlai nel 71 e vorrei mettere quell'incontro in parallelo con il molto più recente incontro di Trump e Xi Jinping nella città proibita di Pechino Trump il primo leader occidentale che viene ammesso nella città proibita a Pechino per capire come sono cambiati i rapporti quando Zhou incontra Kissinger a un certo punto dice a Kissinger notate che i due in realtà si volevano molto bene e si rispettavano molto non vorrei esagerare ma leggendo i rapporti di Kissinger poi anche avendoci parlato qualche volta lui è era ed è era perché purtroppo come sapete è mancato veramente innamorato della Cina e comunque se vogliamo girare la frittata la Cina ha sedotto Kissinger con una notevole abilità che cosa dice Zhou a Kissinger ma voi siete una nazione molto più anziana di noi quindi voi conoscete meglio il mondo e ce lo dovete spiegare perché Kissinger resta un momento interdetto ma veramente mi pare che noi siamo nati nel 1776 la Cina un po' prima dice no no noi siamo la nuova Cina la Cina di Mao Zedong quindi è una nuova realtà un nuovo mondo un nuovo paese comunista eccetera eccetera che si distingue e che non ha nulla a che vedere con le dinastie imperiali durante quell'incontro poi c'è anche il famoso scambio di battute sulla rivoluzione francese quando secondo una versione che probabilmente è sbagliata viene chiesto da Kissinger a John Lai cosa pensasse della rivoluzione francese e la risposta che direi in qualche modo si contrappone a quello che diceva prima sulla nuova Cina è troppo presto per giudicare ma probabilmente era un errore dell'interprete che aveva scambiato la rivoluzione francese con il maggio francese con il 68 ma non importa che cosa si dicono invece Trump e lì c'è un bellissimo filmato che trovate su YouTube in cui questi due parlano in diretta la televisione cinese trasmette dalla città proibita a un certo punto Trump lascia cadere dice ma mi dicono che il paese più antico del mondo sia l'Egitto 8 mila anni si vede che Xi Jinping insomma non è proprio contentissimo di questa battuta e dice sì certo l'Egitto è un paese antico ma noi e quindi parla come se ci sia una continuità assoluta noi abbiamo 5 mila anni di storia quindi comincia con l'imperatore giallo eccetera eccetera e siamo sempre gli stessi capelli neri pelle gialla eccetera eccetera e finisce in una risata però per dire come la prospettiva della Repubblica Popolare Cinese perché di questo si tratta rispetto a se stesse al mondo si è cambiata in pochi anni mentre prima voleva essere un paese che quasi nasceva da zero e si identificava con l'ideologia comunista riletta in salsa cinese da Mao eccetera Xi Jinping si considera semplicemente l'imperatore di una dinastia la dinastia rossa che è perfettamente coerente e partecipante dello stesso sistema di quelle che risalgono secondo la propaganda o comunque una non storia diverse migliaia di anni fa e poi ci si avvicina e questo vuol dire che la Cina ha capito che oggi la competizione a livello internazionale si gioca molto sulla storia sulla interpretazione della storia sull'uso della storia come un fattore di potenza quindi se tu hai 5 mila anni di storia o sostieni di averli insomma hai e soprattutto vuol dire che tu devi mantenere una eredità che ti è stata trasmessa da qualche centinaio di generazioni e che oggi tocca a te portare avanti questa idea discutibile ma molto interessante del rapporto col passato che hanno i cinesi che potrebbe ma questo ci porterebbe troppo lontano anche aiutarci a capire l'America sul perché anche l'America abbia riscoperto improvvisamente che non è nata nel 1776 ma addirittura è nata nel 1619 causa banda di trafficanti di negrieri e cose di questo genere cioè per capire fino a che punto poteva andare e può andare questo modo un po' suicidale di raccontarsi dell'America ancora una volta però riferito alla storia la legittimazione non viene più da un'ideologia da un programma da dobbiamo cambiare il mondo ma da dove veniamo e siccome poi ognuno si può raccontare tutte le storie che vuole perché se ne sentono veramente di cotte e di crude questo è un bel vantaggio però è anche un modo difficile per impostare i rapporti in maniera seria fra i paesi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti